Il foglio after care, il foglio con delle istruzioni di igiene e parleremo proprio di quello che è l'igiene e il mantenimento. In questo foglio che vi sta dando, che poi tra l'altro viene consegnato a tutti i pazienti dopo ogni volta che viene il paziente qua in Moldavia, c'è scritto per filo e per segno quello che bisogna fare, come bisogna comportarsi e come vanno puliti i denti. Una parte che salta all'occhio è che il foglio, lo vedrete, è diviso in due parti ed è il foglio questo del mantenimento, c'è la prima parte igiene meccanica e l'altra igiene chimica, come lavare i piatti. Spugnetta, quindi olio di gomito, ma anche detersivo disinfettante. Se uso il detersivo e non uso la spugnetta, ho piatti disinfettati ma incrostati. Stessa cosa se invece uso la spugnetta ma non il detersivo, cioè i piatti lucidi, ma non sono disinfettati, ok. Andate spesso al ristorante? Ok, qualche volta. Le forchette sono di plastico o di metallo? In metallo, in metallo. Sono imbustate, sterili? Adesso non sono più in metallo, sono più imbustate, sono la bittà. Ok. Allora, l'igiene è qualcosa che deriva non solamente dalle condizioni appunto della superficie, se è pulito o sporca, di ciò che mettiamo in bocca oppure di ciò che abbiamo in bocca, ma anche e soprattutto del substrato. Cioè se il substrato è debole, quei batteri causano problemi. Se invece noi siamo forti, gli stessi batteri non causano problemi. Ci sono pazienti che fumano che non hanno la piorrea. Ok, ci sono pazienti che fumano che hanno la piorrea. Il fumo non è una causa della piorrea, è un aggravante. È una cosa che insegnano proprio quando ti spiegano il problema della malattia parodontale che sono tante cause che a un certo punto scatenano il problema. Ed è proprio il fatto che sono tante cause messe insieme che fanno sì che poi la terapia è una terapia che deve agire su più fronti, non su un unico fronte. Per esempio potrei pensare allora tolgo il fumo e scompare la parodontite. No, non è così. Allora prendo l'antibiotico e scompare la parodontite. Non è sufficiente. Allora faccio il curetage e scompare la parodontite. Allora lavo me gli denti e scompare la parodontite. Sono tante cose che vanno fatte insieme. Ok, la parodontite è una condizione genetica che non è una malattia, è una condizione di debolezza. Ok, è una condizione genetica che se è trascurata e messe dentro poi i vari fattori che possono mettere il nostro sistema immunitario di difesa in posizione di debolezza, allora si scatena la battaglia. Si scatena che poi è una battaglia. Va vista così. Quindi noi abbiamo degli attrezzi e delle cose da fare tutti i giorni a vita. Infatti si dice che non è che io faccio la terapia e ho finito sconfitto. No, da lì devi iniziare che cosa? Un percorso assieme ai centri assistenza, assieme a voi stessi tutti i giorni. Quindi è importante per questo avere il protocollo a casa. E ci sono anche degli attrezzi che dovete utilizzare tutti i giorni, ma immaginate se io vi do le armi e non vi faccio un corso per usare le armi. Sparate di qua e di là, non colpite il bersaglio. Ok, è importante usare quindi degli attrezzi specifici e sono questi che abbiamo messo sul banco. Questi sono degli strumenti che utilizziamo tutte le settimane per fare l'esercitazione al paziente. Filmiamo in più così lo mandiamo anche a tutti gli altri pazienti e tutti insieme iniziamo un nuovo percorso che è poi la parte più importante, perché noi facciamo il 10% di quello che dobbiamo fare. Poi voi dovete fare a casa il 90%, che farà mantenere il lavoro per 30 anni. Per me, perché non mi vedete? Perché per me questa è la parte più importante da organizzare. Qua la squadra, tanto sono più bravi di me. Ok, sono tutti più bravi di me, sono più di me, possono lavorare più di me, sono tanti cervelli che ragionano meglio di uno. Quando li metti insieme fai un team, dei micro team, si possono anche confrontare tra di loro e trovano soluzioni che io da solo non troverei. Molte volte hanno trovato soluzioni che io non vedevo. Serve poi che cosa? Essere educati prima e per quello abbiamo tanti mesi in cui mandiamo mail, sms già di prefiltro, perché non possiamo lavorare con tutti i pazienti. Ma abbiamo successo quando lavoriamo solo con una tipologia di pazienti. Se abbiamo pazienti che non mettono in conto di pagare il prezzo sia economico del volo e soprattutto dell'impegno che ci sarà, è difficile sconfiggere, tanto vale neanche iniziare la partita. Serve determinazione dall'altro lato, per quello dicevo c'è il 90%. E questa che cos'è? Questa è psicologia. Ok, questa è terapia operativa. Prima cosa c'è? Selezione filtro e diagnosi. Diagnosi, che è già mezza terapia, la diagnosi corretta. Se però io non filtro il paziente c'è il rischio che faccio un intervento, per esempio come questo, che è un intervento complesso, metto delle arcate artificiali, delle cose artificiali fisse, avvitate in un paziente che magari non ha le capacità intellettive per capire che dovrà avere un certo uso. Allora lì gli sto complicando anzi la vita. lo sto facendo entrare, pensate magari un paziente che ha delle disabilità cognitive per esempio. Ok, io gli avvito qualcosa di fisso in bocca, non ho fatto una preselezione e gli sto creando la base per tutti i problemi che verranno dopo. Oppure se io non do queste informazioni, non faccio capire che ci sarà da fare questa parte, sto creando la base per tutti i problemi che vengono dopo. E poi un boomerang. Gran parte dell'informazione la iniziamo in clinica con quei libri, per esempio, che vi fanno vedere i problemi che possono accadere. Con le fotografie dei denti rotti, per esempio. Quelli sono problemi che possono accadere. Abbiamo iniziato a fare le fotografie e ora faremo una diffusione sempre più capillare di quelli che sono i problemi che possono accadere. Perché con le immagini educhiamo. Con le immagini facciamo capire che sono materiali artificiali. Questi sono per esempio provvisori rotti, gengive che si retraggono, questo per esempio è un provvisorio staccato, ok? E facciamo vedere con le fotografie che sono materiali artificiali. Possiamo spegnere così la luce, così si vada bene. Spegni la luce così, tanto qua c'è illuminato. Questi sono problemi meccanici. Tutto, tutto, tutto. Poi ci sono problemi di altro tipo, che sono problemi dovuti magari al non utilizzo delle componenti corrette. Come per esempio i multi unit abatment che sono quegli strumenti, quei pezzetti che vengono utilizzati, quegli snodi per unire all'impianto la protesi. Questo ve lo potete passare. Questo è lo snodo che vedrete ha praticamente due fori. Ci vanno due viti lì. E questa è la chiave, questa è la chiave del mantenimento. Perché io devo prevedere che se ci saranno problemi in futuro, io devo poter svitare la ruota dalla macchina. Non posso fissare, incollare, saldare la ruota alla macchina. perché se non metto in conto che potrebbero esserci problemi, potrei poi restare dentro una spirale dalla quale non esco più fuori. Devo spaccare tutto il lavoro per toglierlo. Quindi la costruzione dei lavori deve essere, deve contemplare l'utilizzo di vie d'uscita. Ok, vie d'uscita in caso d'emergenza. C'ho una vite qua e una vite qua. Questa mi unisce questa, questa mi unisce questo all'impianto. Quindi c'ho due porte d'uscita. Se ho problemi sulla protesi, ma non qua, svito solo la protesi e cambio le gomme. Ok. Se invece devo cambiare il cerchione, svito questa vite. I bulloni si possono spanare. Ok, supponiamo che c'è un paziente che non riesce proprio a pulire la bocca. Ogni quanto dovrò svitare le ruote? Spesso, ogni 4 mesi ha il protocollo. Vai in centro assistenza, si svita la protesi e si fa la pulizia professionale sotto. Però dopo 12 volte che svito, questa si potrebbe spanare. La sostituisco. 30 euro si sostituisce la vite. Se si spana questa, ok, ma è difficile che io ogni volta devo svitare il cerchione. Cambio la gomma, non cambio il cerchio. Ci possono essere dei macro problemi che possono portare, per esempio, un pezzo difettoso, questo che si allenta. Ok, lo devo sostituire. Perché se sono comunque parti meccaniche, possono avere dei difetti le parti meccaniche. Se c'è, devo avere la vite per poterlo svitare. Poi ci sono dei problemi che possono avvenire invece a questo livello. Quindi sono gli impianti e sono, per esempio, le infezioni, le infiammazioni croniche degli impianti che portano a riassorbimento dell'osso. Vi faccio, vediamo se ho qua una fotografia che vi fa vedere proprio questo, così avete un'idea anche di quelle che possono essere le problematiche sugli impianti dentali. Andiamo qua, qua giù. Ecco qui. Questi sono tutti multi unit, multi unit. Ecco qua. Vedete qui? Per esempio, l'osso si sta riassorbendo attorno all'impianto. È un problema questo? No. Non è un problema. O meglio, è un problemino piccolo. Perché se io vado, faccio una piccola incisione, ripulisco questa superficie e chiudo. Due punti bastano per questo. È un'operazione che chiede massimo 20 minuti. Se invece ho un coinvolgimento, per esempio, del terzo medio dell'impianto, ok, io posso avere delle recessioni osse che arrivano, per esempio, fino alla linea gialla. Queste in genere non sono problematiche. Quando invece la recessione osse mi arriva fino a questo livello, qua prendo in considerazione di fare un intervento un po' più complesso, magari ricostruire l'osso. Oppure, se arriva oltre questa linea, posso anche già considerare di svitare via l'impianto, ricostruisco l'osso e ne metto un altro. Cosa mi comporta però mettere un altro impianto? Che devo cambiare la direzione e in quel caso devo anche cambiare la protesi sopra. L'ideale è non arrivare mai in questo stadio. Ci possono essere recessioni fino a qua e sono fisiologiche, nel senso che quando noi operiamo l'osso poi si modifica nei mesi. E solitamente l'osso si è visto che si modifica tanto, aggiungo la parola tanto, entro i primi sei mesi. Quindi se noi mettiamo l'impianto qua, dopo quattro mesi diciamo che l'osso è integrato, però delle volte a quattro mesi molti pazienti tornano per fare cosa? Mettere altri impianti. Finiscono, dopo altri quattro mesi noi ci prendiamo ancora abbondanza altri sei mesi per fare il controllo qua in Moldavia. Perché il primo controllo si fa in Moldavia? Proprio perché noi sappiamo che tutti i problemi più importanti di articolazione, di osso vicino agli impianti oppure di rotture protesi che si hanno entro questi mesi. Se non si hanno macro problemi entro i sei mesi ci possono essere dopo problemini. Non contemplo i problemi estetici perché l'estetica è relativa, ciò che piace a me non piace a te, li dipende invece dalla comunicazione. Stiamo parlando di problemi che possono essere meccanici oppure batterici o di postura, problemi di cedimento di materiali, cedimento dell'osso oppure infiammazione cronica che porta le gengive a essere infiammate. E gli impianti sono più delicati delle ossa normali. Qua vedete, per esempio, un impianto dentale con tecnicolofor che l'osso si sta riassorbendo attorno alla vite, questa zona un pochino più scura. Noi possiamo andare a verificare se ci sono degli scollamenti tra l'impianto e la gengiva. Se vediamo che la sonda entra oltre un certo livello di guardia allora lì bisogna considerare già un tipo di igiene, di pulizia. Per questo avete capito che se noi dobbiamo intervenire è fondamentale che le protesi abbiano le viti, i fori. Perché se la devo svitare in caso di emergenza devo poterla togliere. C'è una protesi invece, concettualmente, che non si può svitare ed è questa. La faccio vedere. Questa qui è una protesi che non si può svitare, che ha dei perni che escono dalla gengiva sui quali poi si incolla la protesi. Concettualmente questo non è il protocollo internazionale, ma è una protesi che viene fatta delle volte quando si vuole risparmiare. Allora si mettono delle componenti qua che non sono i multi unit abattment, quella connessione che vi ho passato prima, ma sono dei perni dritti sui quali poi si incolla la protesi. E la protesi vedrete che non ha i fori. Ok. Passatela anche questa. E vedrete che questi perni sono diversi da quello che avete passato tra di voi poco fa. Quella è una connessione che si può svitare. Questi no. Sono delle connessioni che vanno poi immerse all'interno della protesi. Fare le protesi in questa maniera è truffa. Perché se io metto dei perni come questi sui quali incollo le protesi, non posso più intervenire in caso di problemi. E questi perni si possono allentare. Se si allentano ho la protesi che balla, ma non posso staccarla. E se io provo a tirarla col martelletto c'è il rischio che si rompe, si spezza la vite dentro all'impianto. E l'impianto va carotato via. Quello ha causato più un grosso danno. Bisogna mettere i multi unit abattment che sono questi. Il protocollo internazionale, che è appunto il protocollo Malou, che è stato inventato 24 anni fa ormai, prevedeva l'utilizzo di questi snodi qua. Perché era intelligente. Aveva capito che questi tipi di lavori che non sono niente di naturale, bisogna poter prevenire i problemi grossi andandoli a svitare. Poi ci sono anche altri motivi per cui sono stati introdotti. Però diciamo che questi tipi di strumenti di connessioni hanno rivoluzionato il settore. Perché è stato possibile risolvere con delle protesi, con pochi impianti, soluzioni complesse. E lui aveva iniziato mettendo i denti ai poveri. Ok, lui aveva i pazienti poveri che non potevano mangiare con la dentiera. Ha detto ok, non mettiamo 28 impianti, ne mettiamo 4. 4 almeno fissiamo queste dentiere. Però poi fissandole si era accorto che c'erano molti problemi e doveva rintervenire. Ok, ci serve svitarle queste, non incollarle. Poi si era accorto che mettendo in condizioni scarse di osso gli impianti inclinati per evitare le zone dove non c'è osso, serviva uno snodo per pareggiare i conti. Se no avevi gli impianti sghembi e non entravano le protesi sopra. La protesi può essere svitata quindi. La domanda è, quando faccio la pulizia la devo svitare la protesi? Anzi, la mano chi pensa che va svitata? Senso pratico. Se è sporca la si può pulire con degli strumenti che muovi, quindi meccanici, e vai a staccare lo sporco. Puoi anche, non sabbiarla, spruzzare bicarbonato a getto e scrosta la protesi. Se invece la protesi ha dei problemi oppure veramente molto sporca o ci sono controindicazioni all'igiene domiciliare, non controindicazioni, impossibilità all'igiene domiciliare, pazienti che hanno la mano che gli fa così, per esempio, come fanno quelli a pulire in maniera efficace? O non hanno controllo, o non riescono a usare. Pensate un paziente che non riesce neanche a aprire troppo la bocca. Allora, in quei casi conviene intervenire ogni tot mesi e svitare la protesi. E c'è un protocollo che va seguito, un protocollo internazionale che vi faccio vedere qua. Eccolo qua, ce l'avete questo? Non vi serve, ce l'abbiamo noi questo. Ok, questo è un protocollo interno, nel senso che noi sappiamo quando va tolta la protesi. La rimozione della protesi va fatta solo in caso di problemi. Ok, per l'igiene non va tolta. Per quale motivo non va tolta per l'igiene? Perché l'igiene la fai ogni sei mesi. Ok, se la togli ogni sei mesi, vita svita, vita svita, vita svita, si allenta, si spanano le viti o c'è il rischio proprio che cedano i denti attorno alle viti. E vi faccio vedere qual è il punto critico. Il punto critico è il fatto che sono denti che hanno dei fori passanti. Questi fori passanti possono essere sigillati. Eccoli qua, ok. Ma ogni volta che io vado a togliere il tappo, devo toglierlo meccanicamente. C'è il rischio che danneggio il dente. Può avvenire questo. Perché la protesi è avvitata sopra, vediamo i multi unit qua. Vediamo se trovo un'altra fotografia. Che vi mostra sempre questi fori. Ecco qua, per esempio, ci sono i fori sigillati. Ok. Questi fori sigillati, qua per esempio c'è del composito, materiale da otturazione. Questo è adesivo. Si intravedono un po', non... Si intravedono, però ci sono... Qua un po', qui sotto, vedi questo è l'altro foro. Ok. Qui sopra, uno e due. Ci sono dei materiali diversi che si possono utilizzare. E a seconda della... Delle condizioni del paziente, io decido che tipo di sigillo fare al paziente. Io posso avere un paziente con i denti sporchissimi. Sporchi. Sporchissimi. Puliti. Per esempio, c'ho pazienti che hanno tartaro, più fumano, più no utilizzo corretto degli strumenti. O proprio, proprio non utilizzo degli strumenti. Utilizzo strumenti igiene. Poi c'ho pazienti che puliscono... E potrebbero... Potrebbero passare ad essere pazienti puliti. Ok. Qua devo intervenire ogni quattro mesi. Qua devo intervenire ogni sei mesi. Qua basta anche una volta all'anno. Ok. Ci sono. Se io devo intervenire ogni quattro mesi, non sigillo che ne so il muro col cemento. Metto la carta di apparati. Perché se no, vi ho detto prima, c'è il rischio che danneggio i denti vicini. Qua posso usare, per esempio, il cavit. Che è un cemento che con l'apparecchio che vibra, del dentista per fare la pulizia, in 10 secondi si stappa. Poi posso usare qua il Fermit, che è una resina gommosa. Che se io lo vado a punzecchiare, tiro via, è gommosa. È tipo un'otturazione gommosa. Questa salta. E questa mi dura più o meno un anno. Quindi se io lo vedo ogni sei mesi, può succedere che si stappa. È un problema quello? No. Non è un problema. Si va a centroassistenza e si ritappa quello. Un secondo si tappa. È molto più problematico quando io vado a tappare, magari, dei denti molto sporchi, in maniera definitiva. Perché lì devo poi andare a fresare per togliere l'otturazione. E c'è il rischio che non fresso nel punto giusto. Delle volte si vedono questi fuori perché mettiamo dei compositi di un colore diverso. Proprio più scuro per, in caso di emergenza, capire dove devo svitare. Se invece vado proprio a far scomparire e non si capisce dove stanno le viti, anche se faccio la radiografia, è difficile andare a fresare proprio in quel punto. Poi c'è un trucchetto, basta con uno strumento metallico passare sul composito e quello si colora di grigio. Quindi vedi esattamente, tipo carta carbone, rimane il grigio dello strumento metallico, con uno spilletto che usa il dentista. Se invece qua, composito, paziente che pulisce bene. Quando è che io decido questo? A visita il controllo. Ok. Dopo i sei mesi, allora decidiamo come tappare questi buchi. Se tapparli in maniera definitiva, semidefinitiva oppure provvisoria, che si può intervenire. Bisogna capire dall'altro lato con chi sto giocando. Però lo scopo è motivare il paziente, di modo portare i pazienti tutti qua. Ci possono essere poi dei pazienti che proprio non ne vengono fuori, bisogna chiuderli in quella maniera. Ok. Perché sono dei pazienti che hanno dei limiti. Questi sono, per esempio, delle domande. Questa è una cosa che voglio introdurre. L'hanno fatta da pochissimo. Sono alcune domande alle quali, se rispondiamo, salta fuori. Ve lo faccio vedere. Per esempio, rischio della perimplantite, quindi delle infezioni sugli impianti. Paziente, c'ha una storia di piorrea? Sì. C'era placca sotto la protesi? Vedi qua? Qua c'è placca sotto la protesi. Se io vedo alla visita di controllo questo, sì, c'è placca. Se tu passi lo strumento, c'è sanguinamento? Sì. L'impianto è vicino a altri denti con la piorrea? Questo sono un rischio. Quando io metto gli impianti, però vicino c'ho dei denti naturali, questi che sviluppano il biofilm possono intaccare l'impianto, perché hanno i batteri che causano problemi. No, no, perché gli abbiamo tolti tutti i denti. La protesi che cos'è? Di cosa è fatta? Ceramica, acrilica, resina, oppure altri materiali simili alla ceramica? Mettiamo che ha fatto tutto in acrilico, resina. Noi questa neanche la usiamo. In Portogallo fanno solo questo, solo resina. Quando gli ho fatto vedere i nostri lavori, ho fatto così. Ho detto qua non li possiamo vendere questi, costerebbero troppo. C'è perdita, per esempio, di attacco tra le componenti di avvitamento. Se si vede spazio tra la protesi e il multiunit e quindi c'è mobilità. Oppure significa che se c'è spazio tra la protesi e il multiunit che poi è avvitato all'impianto, questo è l'impianto, poi, significa che la protesi non era precisa e crea che cosa? Tensioni sull'impianto. Quindi crea tensioni e le tensioni sull'impianto fanno riassorbire l'osso, quindi l'osso va giù. Per questo le protesi devono essere passive quando si poggiano sugli impianti, non devono causare tensioni. Invece quella protesi che vi ho passato, quei perni che escono fuori, creano tensioni sugli impianti. Tantissimi pazienti che venivano messi questi perni dritti e me ne arrivano tantissimi dalla mia provincia, perché sono stati utilizzati molto in passato delle viti di garbaccio in maxillo facciale. Mettevano queste viti di garbaccio che a pezzo unico uscivano dall'osso. Mettevano la protesi incollata, tirava sui perni e l'osso tutto attorno si riassorbiva. E sono i casi poi più difficili da risolvere perché devi carotare via l'impianto. Non devono esserci tensioni, questo è molto importante. Noi le facciamo bene, le protesi e le tensioni non ce n'è. Il livello dell'osso è riassorbito fino al terzo medio? No. Il paziente fuma? Quanti fumano? Qua dentro? Nessuno. Tutti bravi, hanno smesso tutti di fumare. Mettiamo che fuma. Vi ho detto prima che il fumo non è la causa poi di perimplantite. È una cosa, ma non c'è neanche correlazione. Hanno fatto degli studi statistici dove hanno visto che non c'era neanche correlazione tra il fumo. Non è così determinante. Per ritrarre la gengiva. Per ritrarre la gengiva. Per ritrarre la gengiva, sì. È una cosa che può... Io ho visto tante protesi che in realtà il paziente fumava. Stava benissimo. Stava bene. Gli aveva persi i denti non per piorrea, ma gli aveva persi per incidente stradale. Capito? Quindi non c'aveva la predisposizione. Se invece c'è la predisposizione alla piorrea, quindi causa genetica, allora lì il fumo sì può causare i problemi. Non c'è... Hanno visto che non c'è questa stretta correlazione tra il fumo. A me mi dicono, posso fumare? Fuma. Poi vedremo se ci saranno problemi o no. Facciamo statistica. Meglio non fumare. Ok, per altri motivi. Meglio non fumare. Però liberi di scegliere. Noi non veniamo con il fucile a casa. Per intuire la sigaretta. E c'entri antifumo. Ok, vediamo i risultati. Quindi la chewing gum non fa male per gli impianti. E' meglio di no. Però facciamo statistica. Facciamo statistica. Siamo un centro ricerca. Ulteriore prova che studi. Guarda qua cosa dice. In caso del rischio... 10 punti. Alto rischio. Più del 40% di avere problemi. Si consiglia di fare la profilassi di igiene ogni due mesi. Mi piace questo. Ok, in automatico noi sappiamo dire. Quei centri assistenza al paziente ogni quanto deve tornare. Quindi quando faremo i controlli a tappeto. Ora stiamo organizzando in Sardegna i primi controlli. Poi li facciamo in ogni regione questi controlli. E facciamo una valutazione del rischio di ogni paziente. Così diciamo al paziente qual è il rischio. Ora... Oristano li facciamo. Al centro così prende tutti. Iniziamo a gennaio. Poi facciamo, che ne so, la settimana al mese dei controlli. C'ho un collega che sta lì che li fa lui. Usa gli stessi protocolli. Sì. Quello sulla quale vi voglio far riflettere è, secondo voi, questi pallini qua saranno così per vent'anni o possono cambiare di colore? Cambiare di colore. Non è un verdetto definitivo. Certo. Ok. Per quello vi ho detto, vi ho fatto prima quel disegno qua. Per spiegarvi che è un percorso lungo. Non è che sono bravo, vado in palestra un mese, anzi un anno e poi resto fit e in forma tutta la vita. Continuo. Magari. 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 Devi che... Quindi che cosa stiamo capendo? Che l'igiene è una questione di decisione. che deriva dal verbo recidere, decidere. Tagliare fuori ogni altra possibilità di riprendere una sigaretta in mano. Oppure di andare a letto senza lavare i denti. Di non utilizzare il pulisci lingua. Ok. Di utilizzare solo uno strumento e non tutti gli altri. Di non andare a controllo, a valutare. Quello che salta fuori è che alla fine il vostro partner sarà un centro con un igienista di riferimento che vi deve accompagnare poi tutta la vita. Ok. L'ideale è arrivare lì, non che c'ho i problemi. Arrivare lì, che ti stringi la mano, bravo, è tutto a posto. Ma il 90% lo fate voi a casa. E noi oggi vediamo quelli che sono gli strumenti che vanno utilizzati nel dettaglio. Ok, serve il dentista per fare la pulizia? No, basta l'igienista. In Moldavia non esistono gli igienisti. Qua si tolgono i denti e basta. E si mettono gli impianti, no? In Italia serve l'igienista. Perché poi tornate tutti in Italia? Vedete come l'universo ti aiuta. L'igienista può operare sulle protesi andando a fare l'igiene professionale. A casa voi dovete imparare quella domiciliare, non dovete imparare quella dell'igienista. Ok, di quella se ne occupa l'igienista formata da noi. Vengono qua, gli facciamo i corsi sul paziente e gli facciamo vedere come vanno fatte le verifiche. L'igiene che... La verifica che fa l'igienista cosa è? Prima di tutto. Visiva. Ok. Ispettiva con strumenti. Ok. Può mandarla anche a fare l'RX di controllo. Sarebbe bene perché con la radiografia vediamo alcune cose. Con la sonda. Oppure con la pinzetta. Muove il multi unit e vede se si muove e si è allentato in caso di problemi. Non sempre questo si fa. Solo se si toglie la protesi. Visiva. Vede se c'è il tartaro. Più vede se c'è sangue. Deve controllare se passando la sonda poi sanguina. Se sanguina significa che i denti sono puliti. Significa che il paziente ha lavato prima di venire all'appuntamento. Ok. Se sanguina. Se invece passi la sonda e non sanguina significa che il paziente pulisce tutti i giorni. Non deve ficcare la sonda dove c'è l'impianto. Deve solo metterla e allontanare la gengiva. Sono delle sonde poi queste che si piegano a 25 newton. Fanno tac. Ok. È arrivato al limite. Non devi andare a sforzare. Però come tu togli verifichi se c'è sanguinamento. Poi fa il test del pus. Schiaccia le gengive. Verifica se esce pus dall'impianto. Se esce pus vuol dire che c'è un problema. Un'infezione. Ci sono alcuni casi in cui c'è un qualcosa tipo il pus. Ma in realtà è il fumo. I pazienti per esempio che fumano. Possono avere questa roba giallastra che esce che ristagna lì dentro nel solco. Ma non è pus. Ok. Bisogna discernere tra queste due cose. Poi per gli impianti zigomatici andiamo a vedere se c'è mobilità. Ok. È un pochino diversa la visita ispettiva degli impianti zigomatici. Questa è la prima parte. Ok. Verifica e fa la radiografia. Cosa manca secondo voi? Vorreste essere messi al corrente di quello che ha visto? Sarebbe meglio se facesse una foto e ve la mostra. Soprattutto se c'è pus, se c'è sangue e dove c'è sangue e dove c'è pus. Un conto e ti dico sono sporchi. Un conto e ti faccio vedere la foto e te la stampa e te la do. Quella motiva molto di più e sai dove devi pulire. Infatti colleghi si occupano di fare anche il set fotografico. Con le foto. Ok. Noi con le foto e la radiografia poi in più cosa facciamo? Ricerca. Nel senso che abbiamo uno studio poi prospettico di come vanno i lavori negli anni. e sono statistiche queste che poi hanno un grosso peso se hai messo tanti impianti. Poi fai delle pubblicazioni scientifiche che hanno peso perché non fai pubblicazioni con dieci casi all'anno. Ok. Ne devi fare tanti per avere dei dati seri che puoi portare in giro a conferenze. Dopo cosa manca? Azione. Ok. Azione. Bisogna fare che cosa? La valutazione del rischio. 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 Ok. Qual è il rischio? Va comunicato al paziente. Guarda che il rischio è meglio se vieni ogni tre mesi, ogni quattro mesi. Oppure guarda ci vediamo l'anno prossimo. È diverso. Dopodiché inizia l'igiene. Ok. Sarebbe il top, però diventa un po' costoso in Italia, fare anche il prelievo batterico. Però costa un po'. Ok. Solo questo esame a noi costa circa 90 euro. Mandare un tamponcino e vedere che batteri c'erano dentro. Primo anno lo farei. Ok. Perché comunque se c'è da prendere anche antibiotico oppure probiotici insomma voglio capirlo. Ok. È un qualcosa che introdurremo. Opzionale però se lo potete fare cercate di farlo. Il prelievo batterico per fare l'analisi dal primo anno lo farei. Perché così se ci sono dei grossi problemi c'ho elementi in più per dire guarda c'è alto il rischio. Perché c'è non solamente sanguinamento, c'è anche recessione ma in più c'è anche proprio quei batteri che sono la causa poi della perimplantite, della parodontite quando hai tutti i denti, perimplantite quando hai tutti gli impianti. Ok. L'avete mai fatto voi un prelievo batteriologico? Mai? Per capire che batteri avevate? Quello è l'ABC della cura parodontale. Tutti dovrebbero farlo. Ok. Non il curetage. Il curetage è l'igiene meccanica come vi ho detto prima. Ma se non sai che batteri ci sono, non sai che antibiotico devi dare, ce ne sono 6-7 di antibiotici che puoi dare. Vi faccio vedere. Quindi quindi quella cura che fai fare di tutti quei produttori più quel… Al 99% prende tutto, per quello vi ho messo il Fragile dentro. Nel foglio lì troverete, dovete prendere in farmacia questo Fragile. Eh, ma quello lì riesce a ribellare i batteri, quindi la parte del lavoro lo fa quello. Allora, ti faccio vedere, vediamo se me lo fa scaricare, eccolo qua, un antibiogramma, ti faccio vedere. Quando io stavo in Italia di questi ne ho fatti tantissimi. Tanti, tanti, tanti. Vedi dove… questo è un paziente con i denti, ok? Vedi dove ci sono i denti e qua inserisci un cottoncino. Poi quel cottoncino lo mandi al laboratorio, così, e lui ti dice che batteri ci sono dentro. Puoi anche fare questo, il tampone, lo scrub. Così vedi anche se c'è la carenza della interleuchina 1. E loro vanno a controllare questi batteri. Questi qua sono in genere i batteri che trovandosi tra di loro insieme causano poi la piorrea. Non è che la causano, la scatenano. Poi se c'è anche il fumo, paziente che non pulisce, ponti, sono tante con cause, allora più o meno veloce può andare. Se questi gruppi di batteri passano questa linea nera bisogna fare la pulizia. Se entrano dentro a questi rettangoli bisogna dare quell'antibiotico. Ok, il più delle volte quello che ci causa problemi è il gruppo del complesso rosso e quell'arancione. In questi casi, che sono quasi la stragrande maggioranza dei casi, bisogna dare poi il flaggile. Se andate in farmacia vi diranno è per uso ginecologico. Non sanno come si cura la parodontite, è quello che bisogna prendere. Poi se questo riusciamo a farlo in maniera sistematica, ogni tre anni, vediamo anche se c'è un cambiamento della flora batterica. La presenza dei batteri causa la parodontite? Non sempre. Ci sono pazienti che ci li hanno con i batteri oppure non è in stadio attivo la malattia. C'è la venta, ce l'avete in farmacia. Sì, in farmacia. In Italia la prendete. Ah, quindi adesso non ci bisogna? No, no, no. Quello è un foglio, chiaramente con prescrizione medica, quello va preso, ve la farà una centro assistenza. Questo è un esempio di quando svitiamo la protesi, che c'erano grossi problemi. Questa è la gengiva che è completamente rossa, sanguinante, vicino agli impianti. Si usa uno strumento che si monta sullo strumento per la pulizia dei denti, che vibra, però c'è la punta coperta in peak, tipo il pectone, plastica. L'importante è che non ci sia il metallo a contatto né con la protesi né con i multi unit, altrimenti li danneggia o c'è il rischio che li graffia e poi si attacca ancora più tartaro. Non tutti gli igienisti lo sanno questo, anzi moltissimi non sanno neanche che il sondaggio va fatto con questo strumento e qua poi fa tac. Sugli impianti bisogna usare questo strumento, ed è uno strumento calibrato e devi tirare lateralmente, come qua vedi in queste frecce. Metti la sonda e allarghi, non devi spingere dentro. Con i denti devi spingere dentro, con gli impianti no, devi solo allargare. È un po' diverso. Ci sono quattro punti da valutare per ogni abatment, che anche con la protesi sopra noi riusciamo a valutare. Le metti un po' di sviecche e valuti come non devi svitare la protesi. Qua è svitata perché era un paziente che aveva grossi problemi. Queste erano le gengive tutte rosse e infiammate attorno all'impianto, vedi? Tutte edematose. Questo è un paziente che non ha mai pulito. E c'era anche sanguinamento, vedi il sanguinamento, poi come si crea il rigagnolo qua, di fianco. E poi si lucidano i multi unit, si mette questo strumentino che gira con un gel di clorexidina che sta dentro alla coppetta, si vede qua, questo c'è, c'ha il gel che lucida tutta la parte meccanica dove poi si riavita la protesi. La protesi, in caso di grossi problemi, si svita e si va a rimuovere il calcare che c'è sotto con questo spruzzo di bicarbonato. alla fine viene pulita pulita. Sì, non l'ha fatto un marito che ti mette, no, 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 va fatto dal dentista o dall'igienista che la svita e la pulisce. All'epoca, ha detto spruzzare il bicarbonato a getto? No, è un apparecchietto questo proprio che c'ha l'igienista. Ok, quindi noi no. No, no. Poi la protesi la va a riavitare sopra agli impianti dentali. Questo è il tipo di igiene che va fatta. La protesi poi va pulita a casa in un certo modo. Qua ci sono poi tutti i vari tipi di igiene che va fatta, la profilassi domiciliare. Cioè abbiamo tutto un protocollo che si segue, è quello, non ti devi inventare nulla. Noi sappiamo che quello è il protocollo, questo è quello che insegniamo agli igienisti. Anche agli igienisti gli insegniamo questo protocollo. Glielo stampiamo, mettetevelo sulla testiera del letto, a concheletto si dice. È quello, non uscire fuori dal protocollo perché tanto ci sono 24 anni di esperienza lì. Ok, l'hanno già fatti gli errori e li hanno anche riparati. Quello che va utilizzato a casa, ve lo faccio vedere ora con questi attrezzi che avete di fianco. Prendete il primo attrezzo in alto a, ve ne do un'altra magari qua, giusto per vedere. Però stiamo preparando anche gli altri modellini. Ci sono diversi attrezzi con diverse forme. Abbiamo un set di spazzole, un set qua di scovolini. Qualcuno li conosce gli scovolini perché avendo la piorrea li ha usati per pulire tra i denti. Ok, c'erano degli altri tipi di attrezzi tipo questi che vanno bene per pulire magari quando si incastra qualcosa. Però il grosso diciamo che lo fate con le setole, proprio con queste setole qua, che ci sono di tre diverse forme. Le più importanti sono queste tre, ok? Vi troverete nell'area anche il link. Li potete comprare qua, li potete comprare in Italia, li potete ordinare da Amazon. Questi non è che li consumi, cioè questi durano. Li compri una volta, però questi sono questi attrezzi. Uno, questo dritto, come questo, viene utilizzato per pulire i denti tra la gengiva e il colletto proprio. Infatti è uno spazzolino sottile. Ok, questo serve proprio a pulire questa zona. Implanto orto, lo trovate su Amazon, costa penso due euro. Ok, non è un grosso investimento, però è l'attrezzo corretto da utilizzare. E serve, e potete fare anche questo lavoro qua. La protesi è meglio che utilizzate, per esempio questo qua, il tepe, che ha le setole molto sottili, di modo che non la va a graffiare la protesi. Ok, ha delle setole morbide, fate dei movimenti rotatori, così accarezzate la protesi e portate via la pastella dopo che mangiate. Non devi andare a graffiare con degli strumenti molto duri, rigidi. Provate a toccare gli ultimi due verso il lato destro, sentite la durezza. Qual è che graffia la protesi e quale no? Questo quando hai i denti. Con i denti naturali usi questo, non è vero, anche con i denti naturali sempre questo. Questo ve l'ho fatto mettere nel kit per capire cosa non dovete usare. Toccatelo perché lo memorizzerete per sempre. Se lo sentite così morbido... I migliori sono gli spazzolini che hanno le setole di pelliccia di tasso, non so come si chiamano, così morbida. Anche su chi non ha gli impianti. Ultrasoft questo. Ultrasoft è il migliore. Sì, vi spiego perché è il migliore quello soft. Perché vi ho fatto vedere prima che la sporcizia si può accumulare vicino alle connessioni degli impianti. Se noi facciamo dei movimenti rotatori, queste setole entrano tra il solco della gengiva e la parte meccanica e la lucidano. La portano via. Fate dei movimenti di vibrazione così queste si flettono come i capelli entrano dentro la gengiva e la lucidano. Se devi andare vai. Poi... Dello spazzolino. Se non ti ricordi quando hai cambiato lo spazzolino è il momento di cambiarlo. Ok. Questa è la regola. Se vedi che sono molto le... tutto aperto così cambialo. Deve essere rigido un minimo. Questo è l'attrezzo due mesi più o meno. Dipende da quanta forza ci vai. Questo è l'attrezzo per la parte interna. Ok. Se lo mettete nell'acqua calda bollente questo lo potete anche piegare di più. Questo braccetto qua. Questo si chiama... Ok. Universal Care. Cioè poi lo possiamo comprare qui per cui non c'è bisogno di... Sì. Questo va a pulire la parte interna. Che è la parte più difficile da accedere. Movimento laterale o diversi movimenti? Sempre così. Laterale. Laterale. Non fate questo perché tanto ti sbatti sulla lingua e basta. Laterale così. È importante che pulisci la parte interna. Vi ho fatto vedere anche l'altro esterno che era un movimento orizzontale. C'è una fessura praticamente che voi dovete pulire. La fessura che c'è tra gengiva e protesi. Quella va pulita. Poi rimane da pulire la parte dietro. Questa parte posteriore. Ok. Ce n'è di due tipi. Compact tooth. Ok. Compact tooth. Ce n'è anche un altro che però è a punta. Voi prendete questo con la punta rotonda. Vi aiuta a pulire la parte posteriore. Specialmente i pazienti che hanno 14 denti. Ok. Lo dico per quei pazienti che montano 14 denti. Che i denti vanno ancora più in fondo. L'arcata non riescono a pulire bene lì dietro. Con lo spazzolino classico. Questo ce la fanno. Se invece si stappa una vitina come questa. Vi ho detto prima. Non è un problema questo. Vai con questo. E togli il cibo se c'è andato cibo dentro. Poi quando hai tempo che è da passare da. Te lo fai tappare. Mette. Indurisce con la lampada e tappare. Un tappatore provvisorio. Si. Allora. Se avete questi fori. Andate in farmacia. Vendono per pochi euro la pasta. La stessa che usa il dentista. Che si chiama il cavit. Pasta da otturazione provvisoria. La prendi con dito. La metti sul foro. E tiri via col polpastrello. E rimane. E rimane. E rimane. Questa la consigliamo anche a quei pazienti. Che dobbiamo mettere questa pasta. Il cavit. Pazienti che la dobbiamo togliere ogni quattro mesi. A casa c'hanno quella. Se si stacca. Tappa al tappa. A me era successo. Il foro. Era molto fastidioso. Meglio avere accesso. Poter avere accesso alla protesi che no. Perché. Ricordate. Ne abbiamo parlato a volta scorsa. Che sono tutte cose artificiali. Che si possono rompere. Quindi. Se noi sappiamo questo. Dobbiamo anticipare i problemi. Non creandocene ulteriori. Ma anzi. Creando le. Le porte d'uscita. L'altro strumento importante. Che dovete utilizzare. Questi sono per. Pulire. La protesi. Se vi rimangono denti. E avete fatto lavori misti. Comprate anche il kit di scovolini. Per andare a pulire. Tra un dente e l'altro. Ok. Ma si può aggirare con l'idropulsore? Dopo ne parliamo. Questa è un'ottima domanda. Questa cosa serve? La pulire. La pulire. La pulire. È un rastrello. Questo qua. Quando fate così. Vi rimane qua. Una gelatina acida. Che è la causa di tutti i mali. Yogurt. Ok. Sulla lingua. Specialmente. Chi ha la lingua fissurata. C'ha le criptolinguali. Che sono piene piene dei batteri. E questi. Proteoglicano. Che è un gel proprio. Che non penetra neanche il colluttorio dentro. Dovete rimuovere. No. Però. Questi batteri. Questi batteri. È lattiginoso. È lattiginoso. Come dopo che mangiate lo yogurt. Ok. Se voi passate. Ci avete lì dentro. Tutta questa gelatina. Dentro ci sono i batteri. Che producono l'acido lattico. Che attivano poi gli allarmi. Del sistema di difesa. Che sono quelli che poi attivano la preimplantite. Che proprio lo yogurt. Che compriamo. È uguale. No. Per lo stesso. Ma questo qui. Questo c'è di diverse marche. Ma anche questo. Lo devi laccare così. Lo lavi. Lo metti nell'acqua con bicarbonato. La cosa migliore è con un po' d'aceto. Ma come lo conservi? Che io ce l'ho. No. No. Questi. Allora. Un consiglio. Questi. Mettetevi dentro un astucetto. E portatelo sempre con voi. Ok. Perché. Ovunque. In borsetta. Oppure vi fate il borsello. Ma sono in cappia di sincronalmente. La disinfezione la fai dopo che hai pulito col collutorio. Col secondo punto di quel protocollo. Ok. Questi agg. Questi agg. Si. Li puoi mettere capovolti un po'. Ma. Comunque non li vai a sterilizzare. Capisci. La. Eh. Questi qua servono solo a fare la rimozione meccanica. Poi la disinfezione che non è la sterilizzazione. La devi fare coi colluttori. E colluttori ci sono di tre categorie. Ne parliamo solo due perché una mi sa che neanche c'è in Italia. E' comunque molto costosa. Ehm. Li trovate al secondo punto. Eh. Igiene chimica. E sono il. Adesso abbiamo parlato della prima parte che è l'igiene meccanica. Igiene. Meccanica. Ascolta. No giusto. Io non vi ho parlato di idropulsore. Ok. Perché? No. Stavi chiedendo degli spazzolini così conclusi. Questi giganti sti qua. Dove cavolo io? Gli scovolini. No. Ti assicuro che ci sono pazienti che hanno spazi così larghi. Tra i denti. Te l'assicuro. Ma chiaramente. Dipende dallo spazio che uno ha tra i denti. Si. Ma chiaramente. Non è che. Vai in farm. Sì. Meglio. Questi non servono. Servono perché. Ma ve li ho messi perché non tutti hanno le arcate complete. ci sono molti pazienti che ancora hanno mantenuto dei denti. Ma bisogna avere nel kit questi attrezzi per mantenerli. Se no mantieni bene la protesi e perdi gli altri. Quindi. Si. Chiedi. Allora. Manca una cosa che non vi ho fatto vedere. Perché ve la voglio mostrare direttamente sulla slide. Dove è che ce l'ho la slide. Eccola qua. Andiamo all'igiene meccanica. Questi sono tutti gli strumenti che puoi usare poi vedi l'igienista per andare a staccare il tartaro. No. Questi a voi non interessano. Questi sono gli spazzolini. Ne abbiamo parlato. Eccolo qua. Fila interdentale. Lo spazzolino con l'elettrico? No. No. Non è consigliato. No. Ok. La zona. Quando tu vedi i denti artificiali. Pensi che devi pulire i denti. In realtà la parte critica è la linea tra la gengiva. Non sono denti naturali quelli. Quello è plastica. Non si caria. Oppure zirconio. Non si caria. O ceramica. Non si caria. Quello dove si attaccherà il tartaro. Vicino la linea. Qua. Qua si attaccherà il tartaro. Qui sopra. In questa zona qua sopra. Spegniamo di nuovo la luce. Così vediamo ora delle altre slide. E approfondiscono la parte più difficile da capire. Che è come pulire la protesi avvitata. Ci sono dei fili che fa per esempio anche la tepe. Che servono per andare a pulire. Hanno una parte rigida. Come questa. Che passa nel solco tra gengiva e protesi. Lo acchiappi. Tiri. E ti tiri dietro la spugnetta. Ok. Li trovate su Amazon. Idontix. Sì. Questi. Li puoi usare ancora un pochino magari. Però questi disinfettali un po' Se no ti si inzuppano come le spugnetta del lavandino di batteri. Se no è meglio il monouso superfloss. Ok. Superfloss. Questi sono monouso. Oppure quelli della tepe che sono 180. Mi sa ce n'è in una scatola. 80 o 180. Questo è più grosso. L'altro è un po' più sottile. Per esempio quello Oral-B. Lo vedi qua sopra. E questo qua. L'Oral-B. Questo qua. Lo fai entrare. E lucidi. Finché arrivi all'impianto. E lucidi anche l'impianto. Vai dall'altro lato e lucidi l'impianto con la spugnetta. Non fa male? Dipende. Se non lo usi fa male. No. Va usato. Anche se ti dà fastidio. Il primo periodo devi usarlo. Poi le gengive diventano callose a furia di traumatizzarle. Se non le usi le gengive diventano invece irritabili. Come le ragadi ti vengono in bocca. Questo è uno strumento che rimuove macro meccanicamente. Ora. Voi immaginate che avete la macchina sporca. Come la dovete pulire la macchina? Prima passa nell'idrogetto. Ok. Poi la spazzola. E alla fine il panno. Quella è l'igiene meccanica. Ok. La stessa cosa è per i denti. Puoi avere prima l'idrogetto. Che l'idropulsore. Poi devi usare gli spazzolini. Che rimuovono i detriti più piccoli. E li staccano dalle superfici. E va infine a lucidare. Nelle zone poco accessibili. Con questi fili. Uno non sostituisce l'altro. Quando poi c'è un periodo con i provvisori. In cui le gengive calano. Perché la normale retrazione è dovuta alla guarigione. Lì si possono usare gli scovolini. È meglio che ci sia spazio tra le protesi. Di contro noi abbiamo più problemi. Quando non c'è spazio. Rispetto a quando c'è spazio. Perché? Perché qua pulisce bene il paziente. L'altro non pulisce bene il paziente. E ha poi i problemi. Gli scovolini sono questi. Sì. Questo? Sui provvisori. Sui provvisori. I provvisori abbiamo tante volte. Vi ho detto prima che ho qua le fotografie. di tutti i casi problemi che si possono avere. Vediamo se trovo qua un provvisorio dove si è creato spazio. Ok. Andiamo un po' avanti. Quindi non è sempre solo se si crea spazio. Sì. Guarda qua per esempio questo paziente. Cosa vedi qui all'interno? Che cosa? Questo fuma, non pulisce. C'è? Ok. Questi sono dei provvisori. Non sono definitivi. Però se già noi dai provvisori vediamo questo. Spia. Qua c'è da migliorare qualcosa. Questo è un cedimento meccanico. Eccolo qua. Ecco qua. Vedi. Quando c'ha i provvisori è possibile che si crea spazio durante la guarigione. Questo spazio è fisiologico dovuto alla guarigione dei tessuti. Quando i tessuti guariscono si ritraggono. Poi questa zona noi la andiamo a chiudere nelle protesi definitive. Ma in quella zona è il momento di usare lo scovolino. E tenere il colletto del... Non è neanche l'impianto quello che vedete grigio. Questo qua è la connessione che poi si avviterà dentro all'impianto. Quella poi va buttata. Però tenetela lucida. Se si scopre qualcosa di grigio è meglio perché lo potete lucidare. Per esempio negli impianti zigomatici è frequentissimo che la gengiva va su e scopre la parte lucida anche dell'impianto. È un problema? No. È meglio perché può. La gengiva si è scostata e può pulire e lucidare. Tenere pulito. La superficie dell'impianto in titanio lucido è sicuramente più facile da pulire del composito o della ceramica. È molto facile lucidarlo. Solamente con lo spazzolino se ci vai tutti i giorni quello non avrà mai problemi lì. Tenete conto che queste protesi sono un compromesso a una situazione grave dove il paziente ha perduto tutta la bocca, tutta la dentatura. Avere queste zone di connessione dell'artificiale al naturale è fondamentale per poi fare il mantenimento. Ok, tanto quando sorridi quella zona non si scopre ma quando in intimità va a fare l'igiene lì è molto più facile mantenere. Perché c'è la zona scoperta del colletto dell'abatment, non è l'impianto. È l'abatment quello che si vede. La... Vediamo se trovo un'altra foto per esempio di retrazione. Questo dopo la guarigione, durante la guarigione. Ecco qua, ecco, ecco qua. Qua si vede che c'è ancora i punti, vedi? Qua è fresca, ci avrà massimo dieci giorni, due settimane. I tessuti si sono sgonfiati. Aveva la protesi prima che pigiava sui tessuti. I tessuti sono sgonfiati, ora si è creato lo spazio. Il paziente chiama all'armato. A me si è creato uno spazio, sto perdendo gli impianti. No, sono le gengive che si sono sgonfiate. Lì? Sì. Quasi sempre. Quasi sempre. Quasi sempre. In quella zona bisogna usare lo spazzolino morbido e gli scovolini. Se ti crea problemi e non c'hai il tempo, idrogetti, idropulsore. Ma l'idropulsore è come lavare la macchina solo con l'idropulitrice. Si asciuga e è tutta impolverata. Non hai staccato il biofilm batterico con l'idropulsore. E anzi è più pericoloso. E se io metto nella testa dei pazienti che l'idropulsore è facile da usare, pulisce rapidamente spruzzando acqua, in realtà lì sto creando tanti problemi. Perché il paziente ha una falsa illusione che ha fatto il suo lavoro. Invece no. La cosa più importante sono questi attrezzi qua. Per questo sto facendo una lezione dedicata solo su questo. Ho mai fatto una lezione sull'idropulsore? No. Perché so quanto può essere pericoloso credere che l'idropulsore sia... E so quanto è pericoloso credere che lo spazzolino elettrico sia la cosa migliore. Perché lo spazzolino elettrico lo devi usare così. 10 secondi. 10 secondi. Noi siamo abituati a questo movimento da piccoli. Più quello si muove non hai pulito nulla. Ok quello si muove, tu lo muovi non pulisce. Ed è pericoloso. Se ti insegnano da piccolo a usare il dentista, l'igienista, lo spazzolino elettrico, allora si ti dico hai quel gesto tienilo. Sono paragonabili, non c'è differenza. Ma se io faccio lo spazzolino invece manuale così... Uno deve essere mosso, l'altro si muove. Ma se io muovo quello che... E' bravo. Olio di gomita, la cosa migliore. Adesso veniamo... Cadono da soli, dopo un mese, due mesi, si sciolgono, si aprono... Allora il dentifricio non ve l'ho messo nel protocollo perché so quanto è pericoloso usare il dentifricio. Ok, il dentifricio fa schiuma e basta. Quello che disinfetta è il colluttorio. Ci sono pazienti che non hanno mai usato il dentifricio ma usano solo spazzolino, polvere di bicarbonato e lavano i denti. Ma il bicarbonato non graffia? I denti naturali. Non graffia? Ok, i denti naturali che non li hanno mai perduti senza usare i dentifricio. Il bicarbonato non graffia? La protesi sì, non va usato il bicarbonato per le protesi artificiali, le graffia. Quello che usiamo noi è una granulometria di 14 micron che non la graffia. Quello che usate voi? Sì, no, solo per i denti naturali. Vi sto facendo ora un paragone di, mi hanno chiesto, si usa il dentifricio? No, il dentifricio ha lo scopo di rinfrescare l'alito, ha lo scopo di fare schiuma e avere la percezione che hai pulito. Poi ci sono anche lì diverse granulometrie eccetera. Se tu usi il dentifricio e non usi il colluttorio non stai pulendo la bocca. Se tu invece non usi il dentifricio ma usi sempre il colluttorio almeno due volte al giorno, stai disinfettando la bocca, abbatti la carica batterica del 99%. Per esempio il Curacept, il Listerine del 98%. Usate il Listerine, il Curacept potrebbe macchiare a lungo tempo. L'importante è che hanno o la clorexidina dentro oppure la listerina, le listerine. Sì, però se vai dall'igienista noi con la spazzolina tutto lo uccidiamo, lo stacchiamo. Meglio i denti un po' da smacchiare però impianti sani che i denti ammalati, gli impianti ammalati perché quello non lo... Vai allora prendi listerine al market, è sufficiente. Io non lo uso listerine perché mi sto già venendo l'ulcera, mi sta venendo e quindi è un po' forte per me. Lo faccio una volta al giorno io, ma io ho tutti i miei denti. Quello che non fa più l'ulcera qual è? Il Curacept, un po' tutti, devi smettere di bere caffè. Non è tanto... Ma si può anche fare uno e l'altro ogni tanto? Puoi anche alternarli, sì. L'importante è che se usate quello il listerine, usate quello allo... scusami il listerine. Sì, listerine, quello no alcol, l'hanno fatto. Ok. Cerca... poi magari se è troppo forte come faccio io lo diluisco un po'. Sennò la notte vedo le stelle. Aspetta, il Curacept o comunque quello con la clorexidina... Allo 0,05%, il più basso, voi gli dite il più delicato. Il più delicato e vi da quello che è il più delicato. L'idropulsore, una domanda che mi fanno sempre, ci va il collutorio dentro? Non mettete niente, sennò lo scassate. Acqua, basta. Perché tanto il suo scopo è solamente staccare i pezzi grossi di cibo che si sono incastrati. Il riso che è andato là. L'idropulsore serve solo a allontanare via grossi detriti, piccoli con lo spazzolino e la disinfezione la fate con il collutorio. Dentifricio? No, perché ti spiego come va insegnato a lavare i denti. Devi insegnare al paziente a lavare i denti senza il dentifricio per due settimane e prendere poi la pastiglietta che colora tutta la bocca di viola là dove è sporco. Poi rimane venti minuti di fronte allo specchio a staccare tutte le parti colorate. Due settimane il cervello ha memorizzato i movimenti. Sai dove devi andare un po' con più intensità. E questo è un consiglio che vi do. Prendete le pastigliette rilevatrici di placa in farmacia. Ce li ha la gum, ce li ha anche la tepe. Sono quelle che si danno ai bambini che hanno l'apparecchietto ortodontico. Ok? Ma così vede dove deve pulire. Anche voi avete la stessa difficoltà dell'apparecchio ortodontico. Meglio se le sporcate tutte. E io lo voglio introdurre anche qua. che facciamo le foto sporcando le protesi. Così avete la foto della protesi con i punti esatti dove sono sporche. Si può fare. Sono 30 secondi. Mastichi la pastiglietta, c'è anche in gocce. Sputi. Ok, facciamo le foto. Perché se no è sporco può essere relativo. Specialmente se poi stampiamo con la stampante bianca e nero le foto. Invece il viola lo vedi dove proprio è sporco. E abbiamo un termine proprio di paragone magari dopo sei mesi quando torna per l'altra pulizia. Non è più sporca e lucida la protesi. L'altra cosa poi che vi ho detto e bisogna capire è come chiudere i fori. Di quello ce ne occupiamo noi. Siamo noi che decidiamo come aprirli, come chiuderli. Però sappiate che avrete sempre dei denti bucati. Artificiali, belli, ma forati con dei fori. E quei fori servono per poter intervenire in caso di problemi. Questa era la lezione di igiene. Fatemi pensare se ho dimenticato qualcosa. Qua devo finire di completare questa tabella. Vi ho parlato prima di igiene meccanica, poi c'è l'igiene chimica. Nella parte meccanica c'ho gli spazzolini, gli scovolini, pulisci lingua. Idropulsore non lo metto. Ok, così vi ricordate sempre questi. Cos'altro ci può essere? Bravo. Il filo. Questa è la parte più importante perché le protesi sono convesse. Se io faccio passare il filo è lucido, la convesità viene pulita, lucidata. E questo non può essere fatto se ti fanno invece la protesi in questa maniera che ti faccio vedere ora. Eccola. No, non è questa. Non ce l'ho qua questa fotografia. Però era molto utile. Non ce l'ho. Forse ce l'ho qua. Neanche. Va bene. Questa è la mia tesi di laurea. fatta col professor Garau. Questo è il premio che ho vinto nel 2009. Borsa di studio a Verona. Implantologia. Ricostruzione del seno macellare. Ok, quindi il grande rialzo del seno macellare. Ricostruttiva quando uno non ha più osso. E con questa poi ho iniziato tutto. Con questa borsa di studio. Ok, qualcuno mi chiedeva a questi giorni come avete iniziato? Chi vi ha dato i soldi? Borsa di studio. Ok, poi è tutta una palla che cresce. Ok. Sono qua a parlarvi di denti e igiene oggi. Perché la ritengo la cosa più importante di tutte. Far capire al paziente come dovrà mantenere il lavoro poi negli anni. Far capire che ormai siamo sposati. Ok. Non c'è modo di tirarsi indietro. Non ci saranno compromessi. Ok, da parte nostra nell'informarvi. Io 2020 sarò molto impegnato in Italia per formare tutti questi igienisti. Che la ritengo la parte poi strategica anche più importante per l'azienda. perché se io produco, che ne so, la Tesla, non posso dare l'assistenza nel mondo, nei vari paesi. La parte fondamentale che poi fa il successo è il fallimento di una fabbrica di automobili, l'assistenza. Se io compro un'automobile che però l'assistenza c'è solo in Giappone, non la compro. L'assistenza bisogna avere dei protocolli fondamentali, importanti, freschi, freschi. Questi ve li ho anche portati da Lisbona, andato all'altra parte dell'Europa e poi sono tornato. Perché quando voglio risolvere qualcosa vado da chi gli ha già risolte le cose. Non ci inventiamo protocolli. Prendiamo i protocolli internazionali e li applichiamo di modo... È la stessa cosa che si fa in tutto il mondo sulle protesi di questo tipo. Non è che noi siamo belli e allora dobbiamo chiudere tutte le protesi in un certo modo perché i nostri pazienti sono bravi. Bisogna valutarlo, ci sono degli strumenti, ci sono dei questionari di valutazione del rischio che vanno anche fatti conoscere al paziente, per quello ve ne ho parlato, per capire che non è che decideremo noi a simpatia ogni quanto ci dobbiamo vedere. Servono degli indicatori e vanno saputi anche comunicare al paziente, sia visivamente, con le fotografie, che andando poi a rilasciare anche il modulo di valutazione del rischio. Perché se io vado a fare un check-up dell'automobile, ok, non è che ne faccio uno di check-up, dovrà essere fatto ogni tot chilometri. però devo sapere in che stato sono le cinghie all'interno, i filtri all'interno. C'è chi cammina di più, chi cammina di meno. Niente, questo oggi non era una lezione incentrata sull'aftercare, però l'aftercare sappiate che come risolvere i problemi, queste sono cose diverse dal mantenimento. Se voi avete dei problemi, noi negli stessi centri facciamo anche l'aftercare, abbiamo quindi per l'aftercare il dentista, per il mantenimento l'igienista. E il dentista che lavora per l'aftercare è affiancato da odonto tecnico. Ok.